Sei una cosa rossa, recca. Lui è Stefano Belli, io sono afferro. Stefano, volevo chiederti, se io dico la parola delirio creativo, tu a cosa pensi? A te, amore. E poi? E poi alle cose che abbiamo fatto insieme, molto belle. Ma non quelle che ricredete voi, cose molto caste. Noi siamo dei veri uomini. Comunque volevo dire una cosa, siamo tornati. Siamo tornati. E vai.